Siamo un'azienda tessile del distretto Comasco, quindi ben locata, lontana da quelle che possono essere risorse idriche. Siamo un'azienda che fa tessuti d'alta gamma, principalmente tessuti per l'alta moda e il pret-à-porter. Principalmente il nostro contenuto è di carattere creativo, quindi nuovi disegni, però abbiamo introdotto un concetto distruttivo nel nostro. Abbiamo preso uno scarto alimentare che era il gamberetto ed è questo scarto alimentare che abbiamo scoperto il chitosano, chitosano che è la polvere e la liofilizzazione di questo scarto alimentare e abbiamo trovato un modo per produrre o innovare cambiando quello che era il nostro ciclo produttivo. Cosa è cambiato? Il chitosano sostanzialmente è andato ad accorciare i tempi di produzione perché è una resina che ci permette di rinforzare quelle che sono le strutture attorno al tessuto e ci permette quindi di avere un progetto industriale paritetico in termini di efficienza a quello che può essere il ciclo tradizionale. C'è però da dire una cosa, che il chitosano permette la semplificazione del processo industriale, cioè toglie fasi successive a quella che è la fase di tessitura, cioè toglie lavaggi, toglie processi di purga, di bollitura e quindi attraverso la semplificazione e l'accorciamento del ciclo produttivo noi abbiamo un effettivo risparmio di energie e di consumabili. Questo però ha qualità costante, cioè noi abbiamo lavorato e pensato un processo sostenibile che non andasse a stravolgere quella che fosse la qualità del nostro prodotto perché gli esperimenti che c'erano stati prima di prodotti sostenibili o di prodotti di carattere bio si erano sempre scontrati con un degradamento dell'aspetto estetico di quello che era il tessuto e quindi erano andati a impattare negativamente sulla percezione del consumatore anche perché c'è da dire che una volta il consumatore era un pochettino meno interessato rispetto a quello che oggi ha il contenuto di sostenibilità del prodotto stesso. Questo è soltanto per dare alcuni dati. Noi abbiamo attaccato un componente che è una microplastica che è il PWA. Il chitosano è antagonista di questo PWA e può essere utilizzato ovunque questa microplastica è utilizzata. Noi la utilizziamo per quello che è la produzione di cash mirfini ma ci sono industrie quali il jeans o quali il biancocasa che ne fanno un utilizzo massivo. Basti pensare che abbiamo istaurato collaborazione con un produttore, due produttori di denim italiano e la differenza tra l'utilizzare o non utilizzare il chitosano sono 36 milioni di metri cubi d'acqua all'anno perché c'è da dire che viene prodotto un jeans per ogni essere umano al mondo ogni singolo anno quindi 6 miliardi e mezzo di pantaloni è un tipo solo di capo non sono tutti quelli che noi oggi usiamo e compriamo. Per quello che riguarda la nostra tipologia di produzione impatta sicuramente molto perché per quanto riguarda noi togliendo tutte queste fasi successive alla produzione successive alla tessitura risparmiamo il 95% per l'acqua e di conseguenza quello che è il 95% dell'energia che serve per scaldarla e per portarla al bollore. Abbiamo trovato in modo inaspettato alcuni aspetti positivi perché avendo affrontato la ricerca in modo, come si può dire, molto modesto ma misurando noi stessi abbiamo scoperto effetti che inizialmente non cercavamo quale l'antibatterio staticità o semplicemente abbiamo visto che l'avere il chito sano crea un ambiente che non è proprio ideotico ad esempio agli acari della polvere. Sui gusci dei granchi e sui gusci dei gamberi tendenzialmente non si sviluppano micosi perché di fatto l'ambiente, il polimero che lo compongono non è a loro idoneo. Noi l'abbiamo fatto e c'è da dirlo anche perché l'industria tessile inquina noi siamo inquinatori, non è un peccato dirlo c'è soltanto da spingersi a cercare di farlo meno, a cercare di farlo in un modo diverso perché consumiamo risorse e benché noi si lavori perfettamente in quello che è lo standard di legge lo standard di legge di un futuro deve essere diverso da quello che oggi ci permette di fare la legge stessa perché se no arriveremo in un overlap e ci andremo a scontrare. Per farlo abbiamo dovuto costituire un team di ricerca interno ma eravamo soli, magari avevamo le idee abbiamo dovuto finanziare borse di studio perso il CNR perché ci serviva qualcuno che desse un numero empirico a quello che fosse semplicemente un'intuizione e dopodiché abbiamo chiesto a enti di una certa caratura internazionale di misurarci perché dovevamo togliere quello che era l'aspetto dell'autoreferenzialità e quindi dare un valore aggiunto e di maggior trasparenza a quello che poteva essere il mercato. Nel 2013 in estensione a quello che è stato il progetto del chitosano e quindi al vedere che si poteva fare sostenibilità abbiamo sottoscritto la campagna detox perché c'è da dire che l'industria usa una molteplicità di prodotti che alla fine finiscono tutti nelle acque refue. Per un'affinità col concetto delle plastiche nella famiglia delle sostanze bandite dal biotox ci sono gli iftalati che sono quello che rendono morbide le plastiche ma come ci sono anche i fluorurati che sono ciò che sono gli impermeabilizzanti. A questo punto ci siamo messi a parlare con i nostri clienti a cercare di diffondere il verbo. Cito perché è sicuramente importante che due settimane fa Juncker in un'intervista che ha fatto sulla programmazione economica dei prossimi anni ha introdotto la limitazione della plastica quale obiettivo della politica economica europea. È un salto dimensionale perché fino ad oggi la plastica era semplicemente uno scarto da riciclare nel momento stesso in cui viene considerata qualcosa da limitare vuol dire che sta venendo a monte il concetto che è potenzialmente dannosa per la salute e non è soltanto una questione che viene diffusa tra specialisti o persone amanti del mare ma anche a qualcuno che si occupa di politica a livello europeo ed è una cosa che ci ha fatto sicuramente molto piacere perché era più di dieci anni che andavamo avanti a raccontarlo. Scusate sono andato indietro. Dieci anni. Noi abbiamo iniziato dieci anni fa a fare esperimenti. Abbiamo scoperto la possibilità di utilizzare il chitosano dieci anni fa e siamo andati avanti per passi, un po' a zigzag perché l'innovazione non è sicuramente una linea retta a volte ci si deve spostare un po' di lato per raggiungere il proprio obiettivo ma abbiamo sicuramente messo in pista una sequenza di passi continuativi volti a raggiungere quello che è un obiettivo della nostra azienda. L'essere il più sostenibile possibile semplicemente perché in una visione autoconservativa di un'azienda che produce capitali come ha detto il signor Tonchetti Provera prima l'essere sostenibile garantisce la possibilità di essere sul mercato domani ed è semplicemente quello che è lo scopo primario di un'azienda.